I segni più vili dello zodiaco. Sono peggio del diavolo. C'è un potere inaguato nelle ombre dello zodiaco che eclissa persino l'oscurità stessa. Ci sono segni i cui lati oscuri possono manifestarsi in modo tale che anche il diavolo stesso li guarderà con cautela. La loro astuzia, astuzia e crudeltà nascosta spaventano e affascinano allo stesso tempo. Questi segni sono in grado di manipolare la realtà e le persone che li circondano in modo tale che le loro azioni sembrino veramente diaboliche. Diamo un'occhiata alla loro misteriosa oscurità e scopriamo chi sono questi segni peggiori del diavolo stesso. Prima di scoprire chi sono, metti mi piace e iscriviti al mio canale. E continuiamo. Primo segno scorpione. Lo scorpione è un maestro della manipolazione, capace di penetrare nel profondo dell'anima, rivelare le tue paure più profonde e usarle contro di te. Il suo sguardo gelido e il suo fuoco interiore possono incenerire chiunque osi oltrepassare i suoi confini. Lo scorpione è riservato e la sua vendetta è come un lento veleno. Questo segno può aspettare anni prima di sferrare un colpo devastante e, quando lo farà, le sue azioni saranno mortalmente precise. Lo scorpione contiene l'oscurità che è difficile da combattere, perché sa meglio di chiunque altro come trasformare la luce in oscurità. Secondo segno capricorno. Il capricorno è il diavolo sotto la maschera di uno stratega a sangue freddo. La sua mente è sempre sintonizzata sulla conquista ed è pronto a dare il massimo se questo lo avvicina al suo obiettivo. Spietato. Calcolatore è sempre un passo avanti. Il capricorno non tollera la debolezza. Se qualcuno si mette sulla sua strada, distruggerà quella persona senza la minima esitazione. Questo segno sa giocare a giochi freddi e le sue azioni a volte sono crudeli, ma non emotive. Alla sua ombra si nasconde un leader severo e spietato, la cui ambizione supera persino i piani del diavolo. Il terzo segno è i gemelli. I gemelli sono un segno che può trasformarsi così rapidamente e abilmente da poter essere paragonato al diabolico tentatore. La loro capacità di adattarsi a qualsiasi situazione permette loro di manipolare le persone come se stessero giocando a marionette. I gemelli possono sembrare le persone più amichevoli e dolci, ma dietro quel sorriso possono nascondersi astuzia e inganno. Potrebbero cambiare improvvisamente la loro posizione, lasciandoti confuso, senza sapere cosa è vero e cosa è falso. Questo segno è in grado di cambiare maschera così facilmente che nemmeno il diavolo stesso sarà sempre in grado di svelarle. Quarto segno ariete. L'ariete è l'incarnazione della furia del diavolo. Il suo carattere e la sua aggressività possono distruggere tutto sul suo cammino, lasciando il caos sulla sua scia. L'ariete non ha paura di andare avanti. La sua rabbia è spietata e nel calore della rabbia può commettere gli atti più crudeli. La loro energia è un fuoco che può bruciare tutto ciò che li circonda. E se l'ariete sente una minaccia al proprio ego o alle proprie ambizioni, allora diventa la vera incarnazione dell'oscurità. A differenza di altri, la sua crudeltà può essere immediata e divorante.